C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magazze.it, cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magazze.it, da voce al cuore della Sicilia. www.magazze.it, il quotidiano online dei Monti Sicani. È stato inaugurato stamane il centro raccolto e rifiuti per i comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata. La struttura, finanziata con i fondi dell'Unione Europea, servirà per il deposito di tutti i rifiuti riciclabili. I cittadini potranno depositare e pesare i rifiuti e ottenere alla fine una riduzione della bolletta dei rifiuti. Inizia anche la raccolta differenziata qui a San Giovanni Gemini. Sì, San Giovanni Gemini e Cammarata sono due comuni che, grazie anche all'intervento dei loro sindaci, si sono subito attivati. Noi abbiamo fatto di tutto per aprire appresso questo centro di raccolta che dà possibilità ai cittadini di venire dal lunedì a sabato, scuso, il martedì e il mercoledì giovedì di pomeriggio, lunedì e sabato tutte le mattine per poter conferire i rifiuti. Abbiamo stabilito un valore. Questo valore potrà determinare l'annullamento, l'azzeramento della Tarso. Cioè, se ci lamentiamo che la bolletta è cara, allora abbiamo dato la possibilità ai cittadini di venire qui, portare carta, vetro, tutte le frazioni nobili e di decurtarle dalla Tarso fino al suo annullamento. È una grande operazione sulla raccolta differenziata a cui farà seguito quello del sistema di porta a porta. Entro la primavera tardi anche il comune di Cammarata e il comune di San Giovanni Gemini saranno dotati di un sistema di porta a porta spinta in modo da puntare tutto sulla raccolta differenziata e sull'abbattimento della tariffa. Cammarata anche perché il centro è stato fatto a San Giovanni Gemini, ma non ha importanza. Cammarata ne soffrirà, è chiaro che dobbiamo questo centro pubblicizzarlo al massimo, educare per prima noi a portare il cartone, il vetro e quant'altro. La cosa importante è che se non capiamo che effettivamente la raccolta differenziata è importantissima, anche perché abbiamo preso l'iniziativa di sgravare anche completamente alla tassa zero, portarla a zero. Ci vuole giustamente però un atto di buona volontà, differenziare il cartone, il vetro. Diciamo che il posto di venire tutti i giorni ci viene magari due volte, tre volte alla settimana. Facciamo finta che andiamo in un negozio a comprare magari qualche cosa o andiamo al supermercato. Passiamo da questo centro, depositiamo quello che durante la settimana abbiamo raccolto, differenziandolo ed è chiaro che poi ne avremo un ritorno anche economico, perché non ci arriverà la bolletta oppure ci arriverà una parte della bolletta ed è chiaro che avremmo fatto un qualcosa per il futuro anche nostro. Quindi un messaggio anche ai cittadini di Cammarata che iniziano a fare la raccolta differenziata. Sì, ma io nella mia intenzione come comune, oltre Lato, in collaborazione con Lato, fare una campagna porta a porta e mettendo del personale del comune, se è necessario salendo dall'Azza Peppina o dall'Azza Cungetta, a spiegarci come si fa. Anche con l'incombrante, perché questo è principalmente un centro per incombranti, col sindaco di San Giovanni siamo rimasti che noi metteremo un violino, se è il caso, a disposizione della cittadinanza che glielo andremo a ritirare a casa. In determinati giorni c'è un numero verde dove si può eventualmente telefonare e durante la settimana si ritrerà quell'incombrante e portarlo qua, per evitare eventuali inconvenienti che giustamente il cittadino dovrebbero poi gravare. Sì, oggi è una bella giornata per tutti i cittadini di San Giovanni e Cammarata, in quanto si potrà usufruire di questo centro tutte e due le cittadinanze. L'importanza di questa apertura è dovuta al fatto che i cittadini dovranno conferire da oggi in poi tutto il rifiuto differenziato, quindi plastica, carta, vetro, cartone, alluminio, direttamente al centro e potranno fare due grossi servizi alla cittadinanza, uno alla cittadinanza e uno a loro stessi. Innanzitutto quello di tutelare l'ambiente e di rispettare l'ambiente, che credo sia la cosa fondamentale oggi. E poi avranno un incentivo economico, perché portando rifiuti differenziati saranno pesati, saranno quantificati con un tot economicamente e questo tot sarà defalcato dalla bollezza sui rifiuti che arriva ogni anno. Quindi più differenzieremo, più avremo possibilità proprio di abolire o di diminuire la tassa sui rifiuti. Inoltre in questo centro si dovranno pure portare tutti quelli che sono gli ingombranti che oggi troviamo depositati presso le strade purtroppo, facendo proprio un'impressione di una discarica a cielo aperto continua, quindi parlo per capirci i frigoriferi, lavassoviglie, lavatrici, tutto quello che ingombra in mezzo alle strade sarà conferito direttamente qua. E' tutta una serie di rifiuti particolari, quali i neon, i farmaci scaduti, le pile usate, gli indumenti usati. E anche su questi ci saranno pure dei piccoli rimborsi economici sempre da defalcare sulla tassa dei rifiuti soliti urbani. Io mi auguro che questo centro comincia a partire alla grande, si cominceranno a distribuire oggi testerini magnetici per cui accedere al centro, per cui puoi poter chiedere la riduzione della bollezza. E se i cittadini più virtuosi saranno, più potranno defalcare dalla loro bollezza il costo. e credo che si possa anche arrivare a una cancellazione della bollezza. Se siamo virtuosi e riusciamo a portare tutto il differenziato, naturalmente è diviso, attenzione, il differenziato che deve essere carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, pile, come dicevo poco fa, farmaci, scaduti, tutto naturalmente diviso e selezionato, saranno pesati e defalcati dalla bollezza. C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magazze.it Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magazze.it Da voce al cuore della Sicilia. www.magazze.it Il quotidiano online dei Monti Sicani. Pagazzi.it